Nella nostra strategia digitale in un piano di comunicazione online è meglio cominciare con un singolo social network, con una singola piattaforma, quindi partire solo con YouTube e concentrarsi su quello, con TikTok, con Instagram, con Facebook, oppure meglio aprire già tutti i social e concentrarsi su tutti contemporaneamente per farli crescere insieme? Beh, benvenuti e benvenute su Risponde Ciraulo, il nuovo format dove potete farmi domande interessanti e ricevere risposte conturbanti. Trovate nella descrizione il link per inviare le vostre domande. E ascoltiamola questa prima domanda. Per uno che ha un progetto sul web appena partito, consigli di iniziare abbordando già più piattaforme, ovviamente quella che ritiene utile, quindi che so, ci sono Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Telegram, Facebook, magari non da usare tutte contemporaneamente, oppure consigli di iniziare su una piattaforma, magari diventare forti su una piattaforma e poi spostarsi sulle altre col tempo. Beh, io non ho molti dubbi. Nella maggior parte dei casi è molto meglio concentrarsi su una singola piattaforma. È molto meglio iniziare nel piccolo e coltivare bene quello che stiamo facendo. Partiamo con un social network, partiamo con YouTube, partiamo con Instagram, coltiviamolo bene e quando lo abbiamo fatto crescere a dovere, quando è strutturato, ci concentriamo su altri social network, magari facendoli crescere, uno per volta, così da poter dedicare le giuste energie, ma anche il tempo e la creatività, ogni singola piattaforma. Un errore molto comune che vedo fare è che si comincia, si parte da zero e si apre tutto il possibile immaginabile. Si fa l'account YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, pure Twitter. Raga, ma pure Twitter ci mettiamo ad aprire? Non sappiamo veramente che cosa fare nella vita? Beh, è molto meglio partire con una piuttosto che aprirle tutte e dover impiegare tempo ed energie per coltivare tanti piccolissimi microscopici social network tutti insieme. In questa maniera non facciamo altro che disperdere le energie. Queste stesse energie è molto meglio concentrarle su singoli progetti specifici. Certo, volete aprire gli account? Aprire gli account va bene. Cioè, se voi magari, che ne so, io create il progetto Yoga for Fun e dite io mi voglio fare, mi voglio trattenere lo username su tutti i social network, fatelo, apriteli questi social, ci mancherebbe altro. Non sarò io a dissuadervi, ma una cosa è aprire il social per mantenere l'account, per tenere lo username, insomma, per non farcelo rubare, per capirci. Un'altra cosa è iniziare effettivamente a utilizzarli e investire del tempo e delle energie. Ma, proprio per darvi una risposta più completa e forse anche più corretta, io vi suggerisco un piccolo upgrade a questa cosa. Cioè, di base, la risposta è concentriamoci su poche cose e coltiviamole bene. Ma, per essere più precisi, io vi suggerisco di cominciare con tre. Iniziate con tre account, con tre piattaforme, con tre social, ma dategli priorità decrescente. Quindi, scegliete la piattaforma principale, che noi considereremo l'unica piattaforma su cui davvero stiamo investendo del tempo e delle energie di qualità. E poi ne valutate ancora un paio, che iniziate già a coltivare in maniera magari un pochino più blanda, magari senza dargli le stesse attenzioni. Giusto poi per non dover partire da zero, nel momento in cui effettivamente la piattaforma numero uno è strutturata e volete lavorare sulle successive. Giusto per darvi un'idea, il consiglio che io vi do è, nella prima piattaforma investite il 60% del tempo, delle energie e della creatività che avete a disposizione. Nella piattaforma numero due ne investite il 30%, quindi la metà di quella precedente. E nella piattaforma numero tre investite giusto un 10%, giusto per dire inizio a coltivare qualcosina, per non partire proprio da zero. Con questa tecnica, quindi tre piattaforme, 60, 30, 10, secondo me avete un inizio che può funzionare, l'inizio corretto. E in generale, nella scelta di quali piattaforme aprire, soprattutto all'inizio, io ragiono con un metodo che potremmo definire piramidale. Cioè le tre piattaforme ipotetiche, io di solito le apro in questa maniera. Immaginatele tutte e tre in ordine di importanza. Tre piattaforme. Una che ci serve per tenere i nostri contenuti, una che ci serve per dialogare con la community e una che sia di nostra completa proprietà, quindi sotto il nostro controllo, senza un algoritmo a decidere. Una per i contenuti, la più importante, 60% del tempo. Una per la community, un po' meno importante, 30% del tempo. Una di nostra proprietà, all'inizio, meno importante ancora, 10% del tempo. Poi quest'ultima piattaforma in realtà rischia di diventare quella predominante e quella più importante. Ma ci arriviamo fra un secondo. Partiamo dalla piattaforma per fare i contenuti. In questo caso parliamo di una piattaforma che ci serve perché sia duratura nel tempo. Nel senso che abbiamo bisogno di una piattaforma dove i nostri contenuti non si esauriscano nel giro di una settimana dopo la loro pubblicazione, ma diventa il nostro tesoretto. C'è una piattaforma che ci permette di avere una database vero e proprio di contenuti che dureranno per sempre nel tempo. Certo, a meno che non ci occupiamo di stretta attualità, naturalmente, ma nella maggior parte dei casi esistono una serie di contenuti evergreen, hero content, potremmo dire, che durano nel tempo. Bene, ci serve una piattaforma che ci permetta di effettuare questa operazione. La più nota, potete immaginarlo, è YouTube per quanto mi riguarda. Una piattaforma dove i miei video più importanti, quelli che ancora oggi fanno più visualizzazioni al mese, sono video magari di due, di tre anni fa, ma avendoli costruiti bene, avendo coltivato bene, beh, quei video ancora oggi fanno crescere il mio canale. E più video io metto in questa enorme database, in questa banca dati di video che io ho a mia disposizione, beh, più il mio canale cresce in maniera organica. Quindi YouTube ne è un esempio, anche TikTok potremmo considerarlo un esempio di questo genere, anche se temo che la durata nel tempo dei contenuti di TikTok sia inferiore rispetto a YouTube, ma anche i podcast ne sono un ottimo esempio. Nel caso dei podcast, molte persone seguono un podcast e se lo ascoltano dall'inizio, quindi anche in questo caso noi abbiamo un enorme database di contenuti che mettiamo a disposizione dei nostri utenti. YouTube ha anche il vantaggio della ricercabilità dei contenuti, che è unico in questo momento. YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo, quindi assolve entrambi i compiti. Da un lato un database di contenuti che abbia una lunga durata, dall'altro anche il fatto che sono facilmente ricercabili. Volendo potremmo includere in questa categoria anche Instagram per alcuni e alcune creator, ed eventualmente anche Facebook. Il problema di Instagram e Facebook è che sempre di più i contenuti hanno poca durata nel tempo, quindi non è una vera e propria, non è un vero e proprio database che noi teniamo a nostra disposizione. Anche il sito web può assolvere a questo compito. Ipotizziamo di avere un blog. Beh, nulla più di un blog funziona a lungo termine, per cui assolutamente molto bene, in questo caso anche il blog come piattaforma principale all'interno della quale raccogliere tutti i nostri contenuti. Quindi piattaforma numero uno, quella che ci serve per tenere i nostri contenuti. Piattaforma numero due, 30% di priorità, quella per fare community, quella per avere un dialogo più serrato con il nostro pubblico, e quella che potremmo definire semplificando molto il social network. Quindi se da un lato noi con YouTube intendiamo la piattaforma per tenere i nostri contenuti, dall'altro abbiamo bisogno di un social network, qualcosa che ci permetta anche magari con più rapidità di interagire con la nostra audience, magari con le stories, con dei post, con delle foto, con degli strumenti un pochino più immediati. Certo anche YouTube per dire ha tutta la parte di stories, eccetera, eccetera, ma di sicuro la piattaforma YouTube in questo momento non è pensata per quel genere di utilizzo, ma ben altro. Quindi un social network, una piattaforma per comunicare più velocemente con la community, e in questo caso come esempio non vi posso che citare Instagram sicuramente, Facebook, anche se ammetto un po' colpevolmente che io ormai Facebook lo considero sempre meno nei miei radar, credo che ormai sia destinato all'estinzione, anche se ancora non lo è, a onore del vero dobbiamo dircelo, ma anche LinkedIn potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe rientrare in questa strategia, quindi da un lato io creo contenuti con YouTube, dall'altra però dialogo su LinkedIn, oppure creo contenuti su TikTok e dialogo su LinkedIn. Ho ancora un'accoppiata molto nota, potrebbe essere TikTok e Instagram, o podcast e gruppo Facebook. Insomma il concetto è contenuti nella piattaforma numero uno, social network e dialogo con la piattaforma nel caso della piattaforma numero due del nostro esempio piramidale. Anche Twitter lo possiamo infilare in questo caso. Certo Twitter ha uno scopo ormai molto di nicchia. Vediamo adesso se con i cambiamenti che apporterà Elon Musk cambierà qualcosa, ma allo stato attuale Twitter è utilizzato sostanzialmente nel mondo del giornalismo, nel mondo della politica e poi pochissime e rarissime altre eccezioni. Terza piattaforma, quella di nostra proprietà, quella che non è mediata da un algoritmo. Giusto per capirci, in questo caso l'esempio principale è la newsletter. Perché abbiamo bisogno di una piattaforma di questo tipo? Perché non possiamo fare affidamento sui social network, sulle piattaforme? Perché YouTube potrebbe buttarci fuori da un momento all'altro. La stessa cosa Instagram, così come potrebbero crollare come piattaforme vere e proprie. Per carità, è improbabile che YouTube fallisca, siamo tutti d'accordo. Però non è così improbabile che magari il nostro canale viene hackerato e non riusciamo a recuperarlo. Sono cose che possono succedere. Quindi è sempre meglio avere una piattaforma che sia completamente nostra. Perché dico che la newsletter è nostra? Perché noi avremo l'accortezza di scaricare periodicamente l'elenco degli indirizzi mail dei nostri iscritti, delle nostre iscritte. E in quel caso la lista mail è di nostra proprietà. Cioè noi, indipendentemente da quale strumento utilizziamo per la newsletter, possiamo scrivere e interagire con le persone iscritte alla nostra mailing list. E in questo caso non sarà mediato dall'algoritmo la nostra interazione, ma sarà molto più immediata. Questo ha un'efficacia naturalmente in tutti quei casi in cui poi vogliamo anche vendere un prodotto oppure servizio, ma più in generale funziona anche per dare delle comunicazioni alle persone. In modo che le persone più interessate, più fedeli al nostro progetto, siano sempre aggiornate su quello che facciamo, sul punto in cui siamo ed eventualmente, perché no, anche sulle cose che andiamo a vendere. Delle alternative alla newsletter, che per quanto mi riguarda rimane assolutamente lo strumento principale, io credo che qualsiasi content creator che abbia raggiunto un minimo di dimensione debba avere la sua lista mail, perché è davvero un piano B che ormai non si può ignorare per quanto sono dinamiche tutte le piattaforme social e di comunicazione. Quindi sicuramente la newsletter è lo strumento principale, trovate la mia linkata nella descrizione se vi interessa conoscerla, ma anche Telegram potremmo, stiracchiando un po' la definizione che vi ho dato, considerarlo all'interno di questa categoria, anche Discord volendo. Cioè quegli strumenti che sono un pochino più sotto il controllo del creator. Certo, anche Telegram può chiudere da un momento all'altro, anche Discord, così come possiamo essere bannati sia da Telegram che da Discord, ma allo stato attuale diciamo che questa probabilità è un po' inferiore e soprattutto sia Telegram che Discord non funzionano sotto forma di algoritmo, quindi non è la piattaforma che decide quali contenuti vedranno i nostri iscritti e le nostre iscritte, ma sono loro tramite il tastino iscriviti e quello disiscriviti a decidere se sono effettivamente interessati, interessate a ricevere tutte le comunicazioni che effettuiamo. Quindi, terza piattaforma fondamentale, ma voi mi potreste dire, ok ma perché la mettiamo al terzo posto di questa classifica? Perché gli dobbiamo investire all'inizio solo il 10% del tempo, se è così tanto importante? Beh, in realtà è probabilmente la piattaforma più importante nel lungo periodo, è molto più importante avere tanti iscritti alla nostra newsletter che al canale di YouTube, ma è anche vero che questo strumento all'inizio non ha quella che quelli bravi chiamerebbero discoverability, cioè all'inizio nessuno si iscriverà alla nostra newsletter se non ce li portiamo noi gli iscritti, mentre uno strumento come YouTube, come TikTok, come Instagram ci fanno crescere in maniera organica, cioè prendono i nostri contenuti e li propongono a persone potenzialmente interessate. Aprire una newsletter, se non abbiamo già un seguito, non ci serve a nulla perché nessuno si iscrive alla newsletter, nessuno sa che esiste, quindi io vi invito a aprirla da subito per iniziare a coltivare anche in maniera molto blanda questa terza piattaforma, però all'inizio cosa avrete? 3 iscritti, 10 iscritti, 15 iscritti, prima che gli iscritti raggiungano una massa critica rilevante ne dovete macinare di iscrizione sugli altri canali, quindi voi magari l'aprite e la tenete attiva in maniera molto blanda, mensile, ma anche bimestrale, trimestrale, ogni sei mesi. All'inizio l'importante è che ce l'avete, che iniziate a giochicchiarci un po', che iniziate a dire alle persone di iscriversi, così man mano le persone iniziano ad arrivare anche su quella piattaforma, ma prima che diventi rilevante sicuramente passerà del tempo. Quindi, suggerimento finale per rispondere alla domanda, meglio coltivare una o comunque pochissime piattaforme in una fase iniziale, è assolutamente dispersivo e inutile concentrarsi su tante piattaforme diverse, e mi raccomando, la piattaforma sulla quale ci vogliamo concentrare, o quelle principali su cui ci vogliamo concentrare, beh, coltiviamole bene. Per esempio, evitiamo l'inutile copia e incolla, cioè inutile dire, apro YouTube e poi su Instagram metto semplicemente i link dei video di YouTube. Allora, in questo caso, tanto vale, non apritelo neanche Instagram in questa fase. Molto meglio concentrarsi su poche cose, ma farlo bene. Inutile aprire Twitter e poi automatizzarlo con Integromat, in modo che ogni volta che pubblico il mio video, automaticamente faccio il tweet. Tanto vale, non serve a nulla. Molto meglio, poche cose, ma coltivate bene. Anche una, piuttosto. Quando io ho cominciato, io avevo soltanto il podcast e avevo Telegram. Basta, podcast più Telegram, perfetto. Da un lato arrivavano le persone sul mio progetto di podcast, che pure purtroppo ha una scarsa discoverability, ma nel mio caso era un progetto che è stato abbastanza, diciamo, dirompente in quel periodo, e quindi acquisito comunque molto pubblico e molto velocemente, e dall'altro avevo Telegram, che nel mio caso fungeva sia da rapporto con la community, quindi anche un po' da social network, che da strumento sotto il mio controllo più diretto. In quel caso ha funzionato. Ho coltivato due cose. Quando si sono strutturate, poi ne ho aperte delle altre. Ho aperto YouTube, che poi ha avuto il tempo di strutturarsi, e nel momento in cui YouTube si è strutturato, adesso mi sto concentrando su Instagram e su TikTok. In realtà nel frattempo c'è entrata dentro anche la newsletter. Vedete che anche nel mio percorso c'è stata una certa gradualità. Oggi certo io ho un Instagram e un TikTok molto piccoli rispetto alla dimensione del canale YouTube, ma perché adesso è il momento per me di coltivarli. Prima sarebbe stato dispersivo, oggi invece posso permettermi, magari in un annetto, in due anni, di fare crescere bene anche altri social network. E questo era Risponde Ciraulo. Vi ricordo che trovate nella descrizione il link per inviare la vostra domanda. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!